L'Assemblea di Autovie Venete ha approvato il bilancio 2012-2013 che si è chiuso con un utile netto di 15,2 milioni di euro. Saranno distribuiti i dividendi per 3,3 milioni di euro. La proposta del presidente della società concessionaria, Emilio Terpin, è di destinare l'intero utile a riserva. L'azionista di maggioranza, la società finanziaria del Friuli Venezia Giulia, Friulia, ha invece chiesto e ottenuto che fosse distribuito, almeno in parte, il dividendo. L'utile è stato così suddiviso. 0,7 milioni di euro a riserva legale, 1,1 milioni riserva straordinaria vincolata per ritardi negli investimenti del piano finanziario del 2009, dividendi per 3,3 milioni 10 milioni a riserva straordinaria.